Ciao ragazzi, come state? Un saluto, sono ancora io, sono ancora io, ogni tanto mi faccio anche la barba come fanno tutti e ieri ha portato bene perché c'è stato un lieto evento. Lasciate un like qui sotto, iscrivetevi qui, attivate la campanella vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app di numero 10 qui sotto, l'app più bella, più completa, più tecnologica, più moderna e gratuita per gli appassionati di calcio e di Milan scaricata dal link qui sotto, tra quelli che la scaricano, uno si porta a casa la maglia del Milan come questa con lo spazio dietro per personalizzarla con il giocatore che volete ma anche tra biglietti per il derby del 3 settembre quindi mettetevi d'accordo con un paio di amici, se uno la vince porta gli altri due o con parenti, genitori così avete più possibilità, dovete scaricarla da questo link e scrivere il vostro nome qui sotto allora ragazzi, è un video che ritengo importante, che voglio condividere con voi ci tengo davvero ci sono anche però delle notizie importanti che riguardano anche il calendario partirei da qui, perché oggi è stato finalmente sorteggiato il calendario della Champions e noi andiamo a incastrarlo con quello del campionato per capire che cosa ci segnala in una stagione in cui non bisogna lasciare davvero nulla al caso anche a livello di riflessioni insieme a voce alta allora la prima, l'esordio sarà il 6 settembre alle ore 21 contro Salisburgo in trasferta quella gara, cari amici, arriva dopo il derby noi andiamo a Salisburgo, l'Inter riceve il Bayern Monaco quindi gara più impegnativa per loro e precedente alla gara con la Samp la seconda si ospita la Dinamo Zagabria alle ore 18.45 e il 14 settembre gara successiva alla trasferta con la Samp e che anticipa l'impegno con il Napoli quindi va bene la terza, ecco la terza è significativa perché al 5 ottobre andiamo a Londra con il Chelsea dopo aver giocato in trasferta con l'Empoli però poi abbiamo la Juve in casa e poi riceviamo il Chelsea quindi in quella settimana abbiamo tre impegni molto importanti e anche complicati livello di difficoltà alto a Londra con il Chelsea in casa con la Juve in casa con il Chelsea però insomma questo capiterà anche ad altri la quinta il 25 ottobre si va sul campo di Zagabria della Dinamo successivo a Milan Monza e precedente a Torino-Milan va bene l'ultima il 2 novembre sarà prima di Minas-Pezze e dopo Torino-Milan sperando di essere perché no già qualificati in Castri si gioca nei tre giorni c'è bisogno insomma di una rosa completa e competitiva poi parleremo o adesso dopo anche di calcio mercato dopodiché ecco entriamo in una parte di un video un po' diversa che ritengo comunque molto importante da condividere con voi ieri c'è stato il Mozzac perso c'è stato l'Inter che ha perso non me lo aspettavo sinceramente nei pronostici pensavo che l'Inter vincesse ho messo anche un po' di così superstizione e dopo dopo che l'Inter ha perso ho fatto un video di tre minuti in cui ho di fatto esultato per questa sconfitta e ho visto che in tanti avete insomma celebrato la vettura della Lazio e più di qualcuno però l'ho preso un po' a male il mio video qualcuno ha scritto addirittura fai pena mi vergogno di essere milanista con cose del genere eccetera 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 ora io posso capire quando si affronta posso anche capire quando non so l'Inter affronta il Bayern Manaco perde non sarebbe il caso siamo italiani eccetera eccetera ma quando la nostra principale rivale concorrente rivale sportiva perde beh ragazzi secondo me tutti dietro a quello schermo avete esultato tutti a casa non capisco perché ci si debba nascondere rispetto a qualcosa che ci ha fatto piacere no? non lo capisco proprio laddove non si sfocia in offese eccetera eccetera secondo me lo dico con grande sincerità il sale del calcio è anche lo sfottò sano il sale del tifo è lo sfottò sano tra amici laddove non c'è offesa insulto l'ho fatto in maniera molto edulcorata sinceramente con un duplice e triplice significato che ora vi vado ad elencare sentirmi dire certe cose non lo so poi ripeto ognuno vive a modo proprio rispetto a parlare di tutti però vergognarsi perché si esulta per una sconfitta altrui secondo me non significa essere antisportivi come qualcuno ha detto significa essere ben concentrati sull'obiettivo l'anno scorso la Lazio ha battuto l'Inter e noi abbiamo vinto lo scudetto anche grazie a quella vittoria e credo che di fronte a quella vittoria in tanti abbiano esultato poi si dice pensiamo a noi ma certo che pensiamo a noi però ovviamente si guarda anche le rivali avete visto la partita allora non avete pensato soltanto a noi si pensa anche a quello che fanno gli altri ma non pensando di vincere sulle sconfitte altrui pensando di vincere per i nostri meriti però è chiaro che se loro perdono per noi è tanto meglio o sbaglio poi bisogna pensare che si è parlato di calcio non di cose molto più serie e importanti della vita per questo ragazzi c'è rimasto di esultare o di sperarsi per il calcio queste cose teniamocele una volta si dà una volta si prende bisogna prendere bisogna anche saperle dare ma di battute neanche di sfotto perché non l'ho sfottuto nessuno sinceramente e di vergognarsi da vergognarsi come non c'è proprio nulla perché nascondere lo facciamo a casa perché non lo facciamo pubblicamente in maniera pacifica no? e genuina secondo me è il bello dopodiché c'è un duplice significato il primo ero contento perché ho visto una squadra che non è così imbattibile come molti sostenevano una squadra che è stata dominata a livello di giuoco come avrebbe detto Silvio Verusconi e il nostro ex presidente dalla Lazio una squadra che ha avuto difficoltà che per molti è la squadra che vincerà sicuramente il campionato una squadra da cui a tratti c'è stato anche poco il riconoscimento della nostra vittoria lo scorso anno a maggior ragione io esulto se perdono ma ripeto non offendo nessuno il triplice significato riguarda un po' il popolo rossonero ed era il focus del video di ieri che magari non è stato colto dopo la gara con l'Atalanta che noi abbiamo pareggiato giocando bene giocando meglio dell'Atalanta un risultato che comunque ci sta un po' stretto ho letto la qualunque nei commenti al video ecco l'Inter non aveva mai pareggiato adesso l'Inter non la prendiamo più facciamo pena siamo una squadra ridicola ho letto questo andate a vederli i commenti sono lì non li ho cancellati sono lì andate a vederli cosa vogliamo fare eccetera 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 io mi sono permesso di dire ragazzi altre squadre e non solo io perché la verità in tasca non ce l'ha nessuno non ce l'ho io e ognuno al proprio punto di vista altre squadre lasceranno punti a Bergamo magari anche più di due come ha fatto il Milan non c'è bisogno di vergognarsi per un appareggio alla terza giornata a Bergamo ho notato un po' troppa frenesia da questo punto di vista no? un po' troppa negatività e la negatività è quella cosa che la nostra squadra non ne ha bisogno anzi ha bisogno proprio dell'opposto una squadra che ha vinto il campionato poi siamo qui in attesa di altri colpi io dico che se arriveranno meglio ancora ma se non arriveranno ma io spero tanto che arrivino e devono arrivare se non arrivano siamo comunque competitivi per lo scudetto il che non significa che lo vinceremo ma significa che giocheremo lotteremo per quell'obiettivo avremo gli elementi il materiale l'umano a disposizione per lottare per quell'obiettivo quindi ragazzi vedete anzi dopo due giornate il parigi è la seconda giornata neanche la terza siamo qui vediamo cosa facciamo stasera bisogna vincere però ecco spero che la lezione sia un po' servita per capire che non bisogna disperarsi al primo mezzo neanche passo falso pareggio contro una squadra forte su un campo difficile altri hanno fatto peggio allora adesso gli interisti quelli che scrivevano l'Inter ha già vinto non li prenderemo mai eccetera eccetera adesso adesso quindi l'Inter ha perso non vincerà no non vuol dire neanche quello però ecco andiamoci piano con il disfattismo con le sentenze quando siamo all'inizio del campionato e godiamocelo serenamente laddove serenamente significa anche gioire senza bisogno di vergognarsi di nulla spero che siate d'accordo con me ho visto più di uno che si è disiscritto perché ho fatto un video in cui ho detto e va hanno perso vedete non disperiamoci per il pareggio con l'Atalanta boh boh mi fermo qui mi fermo qui ho voluto integrare precisare dire il mio punto di vista e ricordare a tutti che qui si parla di calcio che è una cosa bella che va vissuta con serenità e con sfottò una volta si dà una volta si prende ma se lo sfottò non è fare il pagliaccio sbraitare e offendere ragazzi è alla base del tifo ci tengo davvero che che possiate aver visto spero questo video e spero di che siate d'accordo con me su tutto giochiamo c'è questo scudetto se c'è un passo falso mezzo o un quarto di passo falso continuiamo a tifare senza cadere nel disfattismo ce lo insegna la gara di ieri dell'Inter l'Inter siccome ha perso fuori dello scudetto no no quindi noi se abbiamo pareggiato con l'Atalanta non siamo fuori per lo scudetto anzi prendiamo ancora più forze convenzioni dal fatto che ieri comunque loro hanno dato risposte molto negative questo è il senso ditemi che cosa ne pensate ragazzi vi invito a lasciare un like iscrivervi qui attivate la campanella scaricate da questo link da questo video l'app di numero 10 eccola qui la maglietta che vi potete portare a caso uguale personalizzabile con il giocatore che volete fatela scaricare anche alla mamma al papà al fratello ovviamente in accordo con loro agli amici fatela girare nelle chat chi lo vince si porta a casa o meglio porta allo stadio anche due amici o parenti direi che è un servizio top una possibilità top che garantiamo con numero 10 l'app più scaricata ci vediamo più tardi un abbraccio forza mina e serenità serenità serenità